Radio Roma al centro della musica Ecco buongiorno buongiorno amici ascoltatori a tutti voi un saluto in questo 2 giugno 2007 da Antonello De Pierro una puntata della radio dei VIP oggi in questo giorno speciale per la nostra nazione la festa della Repubblica infatti stamattina c'è stata questa grande parata di fronte a tutte le maggiori autorità dello Stato civili militari e anche ecclesiastiche sono un paio di settimane che ci occupiamo un po' più anche della chiesa più da vicino e l'abbiamo fatto la scorsa settimana come ricordate sicuramente e lo faremo in parte anche oggi ma in minima parte diciamo soprattutto comunque ben trovati naturalmente sui 103.9 di Radio Roma come al solio dico grazie grazie per seguirci sempre grazie per essere con noi per sostenerci in questa trasmissione che ormai sta per toccare il traguardo di 10 anni appunto sull'Etere Romano e grazie per essere con noi dicevo appunto perché siete la parte principale perché senza di voi non avremo motivo di essere qui e un saluto al nostro editore il dottor Alessandro Malatesta che da sempre ormai da quasi dieci anni ripeto sostiene anche anche di questa trasmissione è stato un piccolo problema in studio se avete sentito un rumore comunque nulla di grave siamo sempre qui naturalmente inchiodati a questo microfono sempre da quasi dieci anni e però il mio saluto va principalmente in cabina di regia dall'altra parte dove ci sono come al solito Giuseppe Savoca e Matteo Di Rocco ormai diventati elementi insostituibili appunto di questa di questa trasmissione appunto la radio dei VIP e qualche settimana fa se tutti voi sicuramente ricorderete che abbiamo in una puntata tra l'altro nella puntata dedicata a piotta piotta proprio nella puntata dedicata a piotta appunto a Tommaso Zanello in arte piotta è una puntata dedicata al suo ultimo disco molto molto bello abbiamo fatto una diretta telefonica facendo un accenno a un film diciamo che tecnicamente si chiama cortometraggio in questo caso il regista l'ha definito film lungo film corto chiedo scusa film breve film breve adesso mi stava correggendo e abbiamo fatto l'intervista appunto al regista Rosario Enrico che appunto è il regista di questa di questo film breve che vede tra i protagonisti personaggi come Martina Stella Giancarlo Giannini Lina Sastri Alessandro Haber Antonella Ponziani e lo stesso poi tra l'altro dagli altri anche lo stesso Rosario Enrico e poi avevo detto naturalmente avevamo ormai programmato una puntata dedicata soltanto al film più che altro perché è un film che tocca un argomento un tema che abbiamo trattato più volte più volte se ricorderete gli ascoltatori più affezionati quelli seguono da molto più tempo ricorderanno le puntate che abbiamo fatto qui sul fenomeno della prostituzione di strada sullo sfruttamento della prostituzione che sta assumendo contorni veramente dimensioni soprattutto molto preoccupanti e in passato ricorderete la nostra il nostro servizio che ormai ha fatto quasi storia ormai qui a Radio Roma quando per 21 minuti io mi sono finto clienti appunto e mandato in onda quello che è il vero dialogo che si svolge tra il cliente e la prostituta e vennero fuori delle cose molto molto interessanti ma anche preoccupanti sicuramente il fatto che con un alzando la cifra del punto dell'offerta cioè della richiesta chiedo scusa a quel punto l'offerta sarebbe stata più l'offerta sarebbe stata non protetta ecco mettiamola così si potrebbe praticare in poche parole sesso non protetto soltanto alzando la cifra e questa è una cosa molto grave proprio a livello socio sanitario direi e poi comunque ne parleremo con gli ospiti anche che sono intervenuti che interverranno soprattutto che parte con rosario enrico che vado a presentare che sta qui alla mia destra benvenuto a Radio Roma c'è Antonello buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori di Radio Roma grazie per aver invitato e per discutere di questo veramente fenomeno grave che è la prostituzione di strada perfetto poi tra l'altro è un argomento questo è un tema che viene trattato da tempi da tempi ormai lontani però senza alla fine ottenere un grande un risultato definitivo e concreto ultimamente c'è stata questa iniziativa che non condivido molto devo dire io adesso non so se tu la condividi ma io personalmente non la condivido della Presidente del dodicesimo municipio che è Patrizia Prestipino e praticamente è stata lanciata questa iniziativa di mettere affiggere dei manifesti appunto nella zona del dodicesimo municipio dove proprio contro la prostituzione di strada facendo ricordare appunto cercando di far ricordare ai clienti potrebbe essere tua figlia ma non ha avuto non ha sortito effetti molto positivi perché è stata una cosa un'estemporanea diciamo manifestazione di interessamento presunto direi al fenomeno perché poi non sono seguite sicuramente iniziative poi concrete a livello proprio materiale insomma ecco è stata un po' l'ho considerata un po' un po' di retorica demagogia spicciola e sterile forse anche perciò questo è il mio punto di vista naturalmente però onestamente non è stata un'iniziativa molto molto efficace assolutamente anzi quasi per niente perché se uno gira le strade del dodicesimo municipio sembra addirittura dopo questa iniziativa la prostituzione si sia eh moltiplicata neanche raddoppiato triplicata moltiplicata a dismisura perciò non non sembra che abbia fatto nulla questo come come non abbia ottenuto l'effetto di arginare il fenomeno non di debellarlo ma neanche di arginarlo anzi addirittura l'ha quasi favorito eh paradossalmente eh probabilmente non sono stati manifesti probabilmente era stato come una spinta a dire noi siamo qui continuiamo a fare questo comunque sono d'accordo con te volevo un attimo intervenire io ho avuto modo di conoscere la presidentessa prestivino e dopo praticamente dopo la presentazione del film da parte della regione Lazio che ha patrocinato il film l'abbiamo presentato alla casa del cinema il 7 marzo ho avuto modo di piacere di conoscere la come dicevo prima la presentessa prestivino ehm ha chiesto copia del film per poter eh creare insieme quindi io sono d'accordo con te che il manifesto ehm il solo manifesto rimane fino a se stessi quindi è importante continuare eh essere presenti contro contro questo fenomeno e quindi eh siamo rimasti ci saremmo sentiti ecco eh ai primi di giugno ci siamo per poter effettuare una 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 manifestazione un convegno invitando più persone e poter eh anche divulgare nelle nelle scuole del della della stessa circosizione questo questo messaggio questo eh di far capire a tante ragazze non solo straniere ma anche italiano perché noi viviamo anche il nostro fenomeno certo eh non proprio di eh prostituzione di strato ma una prostituzione eh attraverso i sogni il questa tv mediatica che eh riesce a trasformare ragazzini veramente oggi robot dove eh vediamo fenomeni eh televisivi dove non ci insegnano niente eh ma cercano di creare delle delle eh di sogni eh che alla fine praticamente diventano degli incubi per queste ragazze e per tornando al discorso alla discorso prestibino la dottoressa prestibino io spero di incontrarmi a più presto e di continuare questa insieme questa battaglia mettere eh che mettendo su un convegno e e poter ancora dire la nostra quanto questo fenomeno grazie a tutti